www.redigio.it e la storia continua Il dottor Omobono ci parla dell'igiene e finisce con un capitolo Ultimi ricordi In estate, nella lieta stagione dei bagni, non siamo sovente amareggiati alle dolorose notizie Ieri si è annegato un giovane in porto, questa mattina è annegato un bambino a riva al mare Un vecchio è andato al bagno e dopo aver mangiato lo corse in un svenimento ed è annegato A un altro, mentre era in mare, vennero alle gambe certi crampi si forti che egli dovete abbandonarsi alle onde e morire Questa serie di sventure si ripete sventuratamente ogni anno Ove mai vi si offriste l'occasione di dover prodigare le vostre cure A un infelice tratto al lido asfissiato per sommersione Procurate anzi tutto di non perdere tempo Spogliatelo dalle vesti bagnate che lo ricoprono E collocatelo, ben asciugato, sopra un materasso, se è possibile E nella posizione accennata di anzi Toglietegli dalla bocca l'alga e gli altri colpi estrani che potessero inceppargli il passaggio dell'aria Sviluppate con le strofinazioni e con gli altro mezzo Il calore delle membre rigidite e chiamate prontamente il medico Non meno frequenti dei casi di asfissia sono i casi di avvelenamento E quando si presentano i primi sintomi di avvelenamento Sarebbe necessario indagare sollecitamente di quale natura fosse il veleno inghiottito Se appartenete al regno minerale o vegetale Se è liquido o solido Ma tuttavia, come ogni minuto che passa, può decidere della vita dell'infelice E forza, tutto che sia ignota la qualità del veleno Tentare ogni mezzo più pronto perché questo venga rigettato dallo stomaco A tale effetto si amministrano copiose tazze di acqua tiepida E se queste non bastano a promuovere il vomito Lo si eccita con l'introdurre le dita e la barba di una penna nella bocca dell'avvelenato Vellicando nel palato e le fauci L'ipecaquana Cento centigrammi e anche di più Il tartaro emetico Cinque in sei centigrammi Determinano infanabilmente il vomito A calmare i dolori di ventre Che molte volte si succedono fierissimi Io vi consiglio i cataplasmi di farina Di lino con laudano I cristeri emollienti Laudanizzati E formentazioni di cavomilla Cotesto si serva di norma quando non conoscete la natura del veleno ingoiato In casi speciali poi possono suggerirvi alcuni ottimi antitodi Se fu un ghiottito dell'arsenico E si tratteranno a combattere l'avvelenamento cagionato dal sublimato corrosivo Contro il veleno noto con il nome di nitrato d'argento Pietra infernale E' generalmente raccomandato l'uso dell'acqua in cui sia stata sciolta una certa quantità di sale comune Contro l'avvelenamento causato dell'acido solforico dell'acqua forte dell'acido nitrico dell'acido ossalico e altri acidi di simile natura E torna giovevole la magnese accalcinata stemprata nell'acqua O anche in difetto di magnesio l'acqua saponata Sono pure indecati i decotti emollienti di semi di lino di fiori di malva di Sambuco Riesce un buon antitodo contro l'avvelenamento delle cantaridi la canfera polverizzata e sospesa in una decozione emolliente Contro l'oppio e la morfina Giovane caffè Il succo di limone e il decotto di china I funghi velenosi sono spesso cagione di morte Ricordatevi quando vi dissi dei veleni in genere Provocate il vomito Fate che l'ammerato si liberi delle sostanze che ne minacciano la vita Ma fatelo presto, senza timori, senza irreussolutezze Si tratta di strappare uno sventurato alla morte Una parola sulle improvvise emorragie Il sangue o scole avondantemente dal naso o esca dalla bocca O fluisca dall'utero o dagli intestini Induce sempre, sì, nell'ammalato che negli astanti Seri timori e spesso irresistibile spavento Eppure è necessaria in tutti la massima calma Senza di che nulla si fa o si fa male L'ammalato si ponga a letto Non parli Non sono lì sovraccarichi di coperte Gli si diano a bere bevande fredde acidulate E possibilmente gli facciano trangugiare dei pezzetti di ghiaccio Bagni freddi, locali Cioè sulla parte dove si crede di venire fuori il sangue E intanto si mandi per il medico Oh, che se ne dica In questi e con simili casi La comparsa del medico è proprio la provvidenza divina E questo basti Amici Eccomi giunto Povero nocchiero incerto affaticato Al porto del mio riposo Lo zibaldone dei miei precetti igienici È alla sua ultima pagina Noi abbiamo passato insieme molte ore E sono lieto di aver veduto Che i miei insegnamenti Non vi tornarono discari Spero vi saranno utili Io sono vecchio E non so se più ci riuniremo a ragionare Di cose attinenti a sanità Temo che questa conversazione sia l'ultima Ricordatevi dunque del vostro medico omo buono Amatemi Amatevi Conservatevi sani Conservatevi forti Associatevi Moltiplicate le società di mutuo soccorso Che riescono Sì moralizzatrici Sì benefiche Sì utili Socorretevi l'un con l'altro Con sollecita cura Con disinteresse Con disinteresse Con un amore fraterno Siate morali Gettate l'obolo E delle quali L'operaio azionista Utiene utili Imprestiti E grande incoraggiamento A migliorare la sua condizione Sani Uniti Operosi Economi Sarete lieti Sarete lieti di voi stessi Sarete utili alla famiglia Di decoro e di potente aiuto alla patria E ancora una volta Amatevi Amatemi www.redigio.it E la storia continua